Eri lì quando è stato rianimato? Sì. Piuttosto sconvolgente. Veramente tutto si è svolto in modo professionale e discreto. E erano vicini quando sua santità ti ha parlato? Beh, non penso capiscano l'italiano. Nemmeno io. Ma tu sì. I medici hanno constatato che è morto per sette minuti. Sì. E adesso lui dubita. Sì. E dunque anche tu hai dei dubbi. Capisci che ci troviamo in una situazione delicata? Per secoli abbiamo adottato questo antico metodo di usare un martelletto d'argento e toccare la fonte di sua santità tre volte per determinare se fosse ispirato. E adesso? Semplice. Sono io il martelletto d'argento.